Giacomo a te chiedo, agli italiani l'e-commerce piace? Ma agli italiani sì, l'e-commerce piace, come hai detto tu la pandemia ha accelerato un trend, cioè l'e-commerce aveva già un vento a favore, è un fenomeno che è cresciuto del 20% anno su anno per 10 anni, una cosa difficile da immaginare in altri settori, con la pandemia c'è stata un'ulteriore accelerazione, la pandemia in realtà ha fatto questo, cioè non ha creato dei nuovi trend, ha accelerato dei trend che già esistevano e oggi siamo arrivati effettivamente a uno stadio di maturazione dell'e-commerce che avremmo raggiunto senza pandemia fra due o tre anni. Quando abbiamo chiesto a delle persone, noi ogni sei mesi facciamo una rilevazione su come si vive la dimensione digitale, come si vive nel digitale e una delle domande che poniamo al nostro campione intervistati è cos'è il bello di internet, cos'è il bello e cos'è il brutto di internet e in particolare nelle ultime due rilevazioni, quelle degli ultimi 12 mesi, il bello di internet è stato l'e-commerce, poi c'è la ricerca di informazioni, cioè il fatto che la rete semplifica la vita perché ci abilita con dei servizi a vivere meglio, ma l'e-commerce mi ha anche sorpreso perché è stata la categoria nella quale ci sono brand, servizi, fenomeni, cioè sono citati spontaneamente una pluralità di aspetti legati all'e-commerce, ma è la categoria che ha raggiunto un utente su tre, una risposta su tre clamorosa. E quando chiedi il brutto di internet, l'e-commerce viene citato un po', ma non altrettanto forte quanto il bello. Per cui alla fine il saldo, come vedi, il saldo è positivo, è tutto a favore dell'e-commerce. Quindi possiamo dire che effettivamente, forse per il periodo storico che abbiamo attraversato, ma oggi l'e-commerce è il bello di internet, è quello che immediatamente si salda con un'immagine positiva dell'online. Ecco, poi un altro aspetto è quello dei pagamenti digitali. Oggi lo smartphone è diventato un oggetto, direi, fondamentale della nostra vita di tutti i giorni. E quasi quasi potremmo anche uscire di casa semplicemente tenendo in tasca lo smartphone, potremmo anche dimenticarci il portafoglio. Tu che dici così, Giacomo? Sì, è così. Come la pandemia ha accelerato l'e-commerce, l'e-commerce ha accelerato la digitalizzazione dei pagamenti. Questo anche grazie, non so, al cashback di Stato, no? Poi tutto quello che ne è conseguito. Ma tu hai detto lo smartphone è diventato il portafoglio, è vero, ma non è solo il portafoglio in termini di pagamenti, di sistemi di pagamenti, è anche il portafoglio, cioè il custode dell'identità. Nello smartphone noi oggi abbiamo, adesso non so te, ma io ho tutti i miei documenti di identità e ho l'identità per accedere ai servizi online, che sempre più spesso chiedono un'autenticazione che passa attraverso il dispositivo. E quindi ha due fattori, con la biometria, con la speed, no? Certo. E quindi è interessante anche capire questo, quando chiedi alle persone, visto che ci sono due oggetti che sono sostanzialmente simili, preferiresti perdere, purtroppo la poniamo in termini negativi, perdere il portafoglio, perdere lo smartphone, ottieni che ancora c'è una certa prevalenza verso il portafoglio, cioè la gente preferirebbe perdere lo smartphone che il portafoglio, probabilmente per le menate che conseguono la perdita del portafoglio, che devi andare nei vari uffici a rifare tutti i documenti che eventualmente hai perso. Però è anche interessante questo, che se tu moduli questa preferenza verso lo smartphone, ti accorgi che le persone che sono più avanti, più familiari con i servizi online, tendono a ritenere lo smartphone progressivamente sempre più importante rispetto al portafoglio. Il portafoglio rimane comunque in tutti i segmenti l'oggetto più importante dello smartphone, ma siccome questi segmenti anticipano l'evoluzione, io credo che sia solo questione di qualche anno, di tempo. Fra qualche anno il portafoglio sarà un po' come il borsello dello zio di una volta, una cosa un po' retro, un po' da dimenticare, che a un certo punto uno lascia in un cassetto e non tira più fuori.